Che se siete nemici dell'immigrazione illegale fate di tutto per spingere le persone nell'illegalità. Qual è l'obiettivo? Perché il fatto di tenere così alta l'attenzione e l'allarme sul tema migrazioni fatto dalla destra sia di governo sia di opposizione ha dato a loro la possibilità di lucrare un consenso sulle paure delle persone. Bisogna risolvere un problema dei nostri imprenditori oggi, signor Sottosegretario. E allora io non è che sottovaluto l'aspetto umanitario ma in questo mio intervento ho voluto parlarne perché temo che voi l'aspetto umanitario non lo sentiate almeno che sentiate i motivi dell'economia, che sentiate i motivi dell'interesse nazionale che vi comportiate come una classe dirigente che si rispetti e invece voi fomentate l'odio, fomentate la paura, fate una cosa molto brutta e chiudo. dite a questo paese che il futuro non è un'opportunità, il futuro è una minaccia. Voi state uccidendo, e questo è ancora più grave di quello che fate i migranti, la possibilità che questo paese pensi di sé, di avere tutte le possibilità di farcela. Grazie Presidente.